Ma Giacomo era questo, era un membro della comunità Manuscia ed era orgoglioso di essere, era rimasto quello per tutta la vita. Questo noi ce lo vogliamo ricordare così, adesso vi facciamo sentire forse l'ultima composizione di Giacomo. Giacomo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.